Negli ultimi anni sono stati fatti passi avanti significativi nella comprensione delle modalità di gestione del dolore, dell'agitazione e del delirium nell'unità di terapia intensiva. Di conseguenza le linee guida internazionali sono oggi maggiormente basate sulle evidenze e orientate al paziente e offrono raccomandazioni chiare per la migliore gestione dei pazienti ricoverati in terapia intensiva. Sebbene un'adozione diffusa di queste linee guida possa aiutare i pazienti ad avere degenze meno traumatiche nell'unità di terapia intensiva, una loro applicazione costante è stata difficile. Per cercare di risolvere questo problema si è tenuto recentemente un workshop rivolto al personale infermieristico di terapia intensiva di diversi paesi dell'Unione Europea, allo scopo di individuare quali siano gli ostacoli all'applicazione delle linee guida e proporre delle soluzioni per superarli. Quanto emerso da questo gruppo di lavoro suggerisce che una formazione insufficiente e una traduzione inadeguata delle linee guida nelle lingue locali rappresentino ostacoli significativi alla loro applicazione. Si osservano per esempio disparità diffuse nella frequenza della valutazione del dolore, dell'agitazione e del delirium. Sebbene le linee guida indichino la necessità cruciale di una valutazione regolare, l'attuazione di questa misura è stata variabile e sporadica. Ne consegue che molti pazienti non ricevono gli interventi di cui hanno bisogno per ottenere gli esiti migliori nel lungo periodo. L'uso della sedazione profonda è un'altra area in cui i pazienti continuano a ricevere un trattamento superato. Ora è raccomandato che il personale medico-sanitario eviti la sedazione profonda dei pazienti ricoverati in unità di terapia intensiva, perché una sedazione più lieve può migliorare la sopravvivenza e abbreviare i tempi di degenza. Ciò nonostante, studi recenti riferiscono un'applicazione variabile delle linee guida relative alla sedazione a livello regionale, locale e perfino individuale. Chiaramente deve essere fatto di più per standardizzare le cure dei pazienti. Con questo intento, i partecipanti al workshop raccomandano la traduzione delle linee guida internazionali nelle lingue locali e un maggiore ricorso all'uso di team multidisciplinari, che offrono un mezzo per contribuire a colmare le lacune tra le priorità disciplinari. Sostengono inoltre che sarebbe necessario spostare l'attenzione dalla mera sopravvivenza clinica a ritorno alla vita normale. Essendo il tasso di mortalità dei pazienti ricoverati in unità di terapia intensiva e i suoi minimi storici, il personale medico-sanitario ha l'occasione di indirizzare l'attenzione verso il miglioramento delle cure quotidiane, con conseguenze durature per la salute fisica e mentale dei pazienti. Queste raccomandazioni costituiscono per il personale medico-sanitario di varie aree una tabella di marcia che aiuta a capire e adottare un trattamento basato sulle evidenze per i pazienti ricoverati in unità di terapia intensiva. Grazie a un migliore allineamento alle linee guida internazionali è possibile migliorare sia la sopravvivenza sia la qualità della vita.